5 gennaio Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. Salmo 25, 14 I segreti di Dio Dio non rivelerà mai i propri segreti ai suoi nemici. Se l'uomo persiste nel peccato non potrà conoscere la volontà di Dio. Potrà sembrare un linguaggio misterioso e incomprensibile, quel che noi ti presentiamo come meditazione oggi, ma in realtà il verso biblico, alla luce delle scritture, è molto semplice. Nei Vangeli molti dei discorsi di Gesù sono presentati in maniera oscura da chi non credeva in Lui, ma ai Suoi discepoli spiega in privato ogni mistero. Leggiamo In un episodio biblico leggiamo che Dio rivelò ad Abramo quello che avrebbe fatto. Il Signore disse Chi si arrende al Signore e alla Sua volontà realizza la Sua benedizione, la Sua guida e la Sua protezione. Dio manifesta la Sua disponibilità nei confronti dei credenti, rendendoli partecipi dei Suoi piani. Caro ascoltatore, affida la tua vita al Signore. Confida a Lui con tutto il cuore, per certo. Egli si prenderà cura di te, rivelandoti il Suo piano per la tua vita.